Molte scuole, viste le difficoltà della didattica a distanza e dei rientri in presenza, tentano di coinvolgere i ragazzi con soluzioni alternative. Succede al Parini di Milano, dove gli studenti gestiscono una radio. Allora sentiamo e vediamo con Stefano Fumagalli. Buongiorno a tutti carissimi ascoltatori di Radio Parini. Oggi parliamo delle relazioni... Qualcuno si impegna nella ricerca degli argomenti. C'è chi scrive i testi, chi presenta e chi seleziona la musica. Radio Parini! Ascoltiamo Eva che si introduce. Perfect Illusion di Lady Gaga. I banchi delle scuole sono rimasti vuoti per tanto tempo e così gli studenti dello storico liceo classico Parini di Milano hanno creato un progetto nuovo, una radio in podcast. Perché i ragazzi hanno nostalgia, si vogliono frequentare, vogliono parlare di temi anche legati all'attualità, alla musica, di ciò che gli piace e quindi accettano di vedersi anche con un insegnante il pomeriggio per condividere questa esperienza. I mezzi sono quelli di tutti i giorni, telefonini e pc portatili. Tanto, anche se l'audio non è perfetto, lo scopo è raggiunto lo stesso. Mi chiamo Sofia e sono qui proprio per parlarvi di questo progetto. Secondo me il processo in cui ci troviamo nella riunione a trovare idee è sempre molto bello. E poi il lavoro prosegue nelle case degli studenti diventate ormai appendici stabili della scuola contemporanea. Noi ci occupiamo della parte di post-produzione, quindi di editing, ovvero tagliamo e giriamo i vari file audio. Nessuno di noi ha una grande passione per l'ascolto della radio, ma abbiamo cercato proprio per questo motivo di crearne una che noi stessi avremmo ascoltato. Siamo allo sci, la Coppa del Mondo a Kranz.